Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui in questo breve video Che durerà circa... adesso devo vedere Più o meno l'ho impostato per 7-8 minuti ma vediamo quanto durerà Dove vi farò vedere le varie screen e poi il vincitore Che si trova in questa cartella Adesso andiamo sul contest, appunto, questa qua è la pagina Uh, siamo arrivati a 570 iscritti, ottima cosa Che in 4 settimane 70 iscritti abbiamo fatto, veramente grazie a tutti Allora, qua siamo sul contest All'incirca sono 40 le screen Che sono state pubblicate C'erano anche, adesso guardate qua Ci sono due vincitori Riguardante Farming Uno Farming e l'altro Eurotrack Simulator 2 Visto che su Eurotrack c'è stato soltanto un partecipante Che dopo vi farò vedere Ho deciso di... Che valeva soltanto quella di Farming Quindi quella di Eurotrack è stata tolta Poi dato che aveva già messo due screen In pratica una di Farming e dopo un po' una di Eurotrack Quella di Eurotrack non vale Tanto essendo una Quindi niente Allora, direi di partire Sono circa 31 le screen pubblicate Allora, partiamo con questa che In teoria sembrerebbe presa da intre Però vabbè Ho detto, vabbè Lasciamola partecipare lo stesso Perché ho chiesto al... A Riccardo Se appunto era sua Ha detto di sì Vabbè Lasciamo così E' un 936 Della Fente Con La botte per liquame Che adesso non mi ricordo più bene il nome Però un bel mezzo Adesso qua inizierà a dar problemi Non clicco più sulle screen Perché altrimenti mi dà un problemino Il Facebook Poi Qui abbiamo questa qui di Daniel Francescato Che è molto bella È stata una delle ultime Ma mi è piaciuta anche C'è il... Il Masse Ferguson Della Arm Team E poi la crone ultima Che è veramente una bomba E' molto bella come screen Poi Sandro Vendrame Con la... Classica New Holland CR 1090 Cos'è? Girasoli dovrebbero essere Trebbiatura girasoli E adesso Tutte notifiche Poi Andres Capone Con Non so se è una marca della botte Però con il Mac Questa bella screen E' stata anche inclinata E' molto bella Direi Poi Manuel Pompei Che ci fa vedere il... Case Puma Dovrebbe essere il 230 O 240 Adesso non so Con un aratro Che anche lì non so bene di preciso Perché si vede appena Cos'è? 4 o 5 vomeri Dovrebbe essere il 5 vomeri Della Mora Mora Raptor O Mora Ratri Poi Un'altra screen Questa qui è di Cooperativa Fengion Deer Con Il Fent Adesso non mi ricordo più bene Mi pare Adesso ricordarsi il Fent 824 Mi pare che sia Che è uscito da pochi giorni Ecco Adesso qua Ancora Facebook Mamma mia Sto problemino qua Ok E' veramente un bel trattore E anche una bella screen Poi Questo qua di Zaxis Che è stato uno dei primi Con Ecco Sam Explorer 90 Quello con le ruote Davanti piccole E una Feraboli Che Credo sia una sua edit Che è molto bella Un po' giallina Però è molto bella la screen Poi Poi Ecco qua Markovra Youtube Sarebbe Markovra98 Che è anche lui un canale Youtube Con questa Ve l'ho già presentata Questa trebbia E una di quelle Di un modder americano Il nome lo sto qui a dirvelo Perché Non vorrei far figure Con la pronuncia E quella con i cingoli Ecco La CR1090 Il serbatoio maggiorato Poi C'è questa qui Di Alex Rosa Che E' un po' Poco reale Perché c'è un T4 Che sta trainando Quattro trattori Che Che sono tutti Saranno E' un bel po' Di chili sono Il T9 Il I2T8 E il T6 Con due pianali Che adesso mi sfugge il nome Di chi li ha Gli ha fatti Ecco Questa qui è la foto Di Samuele Pincelli Quella E a quel punto sarebbe La vincitrice Ma visto che è solo L'unica E poi è la seconda Dello stesso Della stessa persona Non verrà calcolata Verrà calcolata Quella agricola Su Farming Poi C'è questa screen Con il Case Puma 160 E un aratro Che Ecco Adesso ho cliccato su Vabbè E' un 4 Vom 4 Vom E' E' stata fatta Al cellulare Non so il motivo Però E' un po' Sfocata Si Poi dopo C'è questa qui D'Alessio Alessio Maggitti Che Non è affatto male Come screen Con Sul retro C'è Le serre Della lattuga E qui Il T6 Il T4 Quello senza cabina Che Non è affatto male Forse devo far vedere Un po' Di più Il T4 Però Non è male Come screen Le serre Sono di una mappa Con Sono fatte Per abbellire La mappa Non credo Siano Siano utilizzabili Poi qua Un'altra foto Che Sembra fatta Al telefono Con Il capanno Con i mezzi Nel capanno Ecco Più o meno Xamefortis Lo Yurliman Il T6 E il Deus Poi ecco qui Una screen Aspettate Non ho detto il nome Di Pietro Balossino Poi C'è questa screen Qua di Andrea Ragonici Ragonici Con un Deus Che è sui 120 Cavalli Adesso non so di preciso Peccato un po' Per gli add Che ci sono qua Ti consiglio di utilizzare Ecco L'Udyler Non so Magari lo sai già Che Non so se Sapete Se mi seguite da tanto Però io L'utilizzo Che Vi permette di togliere tutti gli add Tipo velocità La mappa I comandi E poi c'è il peso di Quello che utilizza Pugni Ogni tanto per le screen Dei minions Dietro il parco è un erpice E scusate Un coltivatore Poi c'è questa qua Di Nicolas Tessari Scusate Tessari Con Ecco Il John Deere Quello che Uno degli ultimi usciti Con un Coltivatore Appunto Non è male come screen Ma si vede Un po' troppo sfocata Ecco Poi passiamo a questa qua Di Riccardo Burini Che Devo dire che mi ha colpito Veramente tanto È sulla TDAMAP Perché Almeno penso sia quella E si vede sul retro Un Fiat Non so se F-115 O F-103 F-115 O F-130 E qui c'è il 90-90 Con le ruote Da risaia E dietro Lo Lo span di fertilizzante Ecco Stora un po' So span di fertilizzante Però non è male come screen Mi è piaciuta molta Poi c'è questa qui Di Agrilori Con il maschio Quello di Marco Fiat Modding E il 7810 John Deere È stata ricaricata Due volte Però È sempre la stessa Quindi non fa nulla Peccato un po' Per il fumo Che nasconde un po' Però Non è male Poi c'è questa qui Di Andrea Braganiolo Con il Fent Serie 1050 E la Bossini B200 Anche qui Stessa cosa Degli AD E Magari Illuminare un po' Di più Però non era male Non è male Come foto Poi adesso Passiamo alle prime Perché vedete Queste qua Sono state caricate Dal 6 Al dicembre Circa Adesso passiamo A quelle Caricate per prime Questa qua Di Nico Cantoni Con un John Deere 8370R Con la Pottinger Novacat Mi pare Davanti E di là C'è il Il Deusfar 9340 TTV E l'Oxbo Che avevo già Presentato tutti e due Questi qua dietro La mappa Non so Però dovrebbe essere Una mappa Montuosa Poi ecco Questa Di Agri Killer 97 Con un John Deere Serie premium E il Bossini Il Bossini Dovrebbe essere Quello di Fabio Il John Deere Non so Perché ce ne sono In giro Una marea Anche questa Molto Peccato per le foglie Un po' Sfocata Però non è male Poi Questa qui Ecco È di Mario Perché la siete scritte Nei commenti Che pensate Che era la mia Invece È di Mario Vedete Poi c'è Questa qui Di Stefano Marzetti Con la Clash Jaguar 870 E davanti Presumo sia La Capello La Spartan E la mappa Aspettate Dovrebbe essere La Vorrei sbagliarmi Ma Sembra La True Rivers Magari Potremmo mettere Ad esempio Un Remork Qua di fianco Però non è male Poi C'è questa qui Di Thomas Membrine Con Ecco Il Same L'hanno chiesto Anche qua Dovrebbe essere L'Explorer Aspettate O Dorado Adesso non mi ricordo più L'avevo trovato anch'io sul forum Di Farmi in Simulator Italia E dietro c'è Il Il Voltafieno Quello di BM Modding Della Crone Non è male Peccato che Non vedendo proprio la lavorazione Non è che sia al massimo rispetto ad altre Però È bella come foto Poi qua c'è quella di Punni Molto bella E poi passiamo a quella di Luca Prandi Con il Ecco sempre Bossini Penso sia lo stesso di prima Di fianco c'è una Class Lexion Dovrebbe essere la 780 Adesso non so di preciso E poi il John Deere Eh sì John Deere Il JCP Quello di 230 cavalli Quello del DLC Appunto Poi Ecco sta qua un po' peccato per i bordi sopra Un po' Poca illuminazione c'è Ecco Vedete ad esempio quella di Pugna E questa qua sotto Qua sopra c'è molta illuminazione Proprio Ne viene illuminata Adesso passiamo a quella Simone Gerli Con Il Fiat 180-90 E dietro Due Vomeri Adesso non so bene ma Aspettate Dietro c'è anche la La trincia del DLC Della Gold Edition E qui c'è la trebbia Della Gold Edition Adesso non so se Sti due qua Può essere che Siano delle sue Due Delle edit sue Perché Come avete visto ha fatto uno zaccaria Per il trasporto valle Poi Sta facendo Mi pare un rimorchio per legname Una edit sempre Quindi non so In teoria non l'ho mai visti Poi ci sono questi Ecco Dix Druido 88 mi pare sia Con il Deus 934 E il John Deere Sempre non mi ricordo più 8000 e 530 O 430 Adesso non mi ricordo più Questa qui è ottima per l'illuminazione Perché è veramente fatta bene Poi passiamo a quella di Manuel Miori Sempre con il Il Deus Che era proprio uscito Quei giorni lì Che sta seminando Adesso non so bene la seminatrice Però molto Anche questa bella illuminata Poi dopo questa qui Che è veramente Molto bella È una delle prime che mi piaceva molto Ed è Un John Deere Serie premium Mi pare Con Un air No Più un coltivatore Posteriormente Veramente Ve la guardate qua Sul Sullo sfondo Proprio il cielo Veramente bello Di Samole Pincelli O Pincio Farmer 99 Poi Questa non c'entra Questa qua di Dan Modding Che non penso sia quella originale Di Di Trebbia Della New Hall E anche la vara Non saprei Proprio Non le ho mai utilizzate È un po' scura Però non è male Poi ecco qua Questa qui è Proprio la prima Di Stefano Trevisano Agro Trevis00 Sempre il Solito Eh sì John Deere Solito Deus Con la lama Mainardi In trincea Non chiedetemi la mappa Perché non so proprio Poi passiamo a quella di Nicola Pecorin Molto bella anche questa Un po' scura Anche sia il cielo Che il trattore Tutto Che spuma 230 240 Anche qui non so Con la cronia ultima E poi c'è Di Giovanni JD Dovrebbe essere John Deere Il Fent 936 Di Giucca Penso Con le due falciatrici Che sarebbero Le Kun Reschinate Quelle che ci sono Sul sito ufficiale Sarebbero Reschinate Alla John Deere Stanno un po' male Con un Fent Però Non è male Anche dietro Bella illuminata E tutto Poi c'è questo qui Di Alberto Tosco Sempre il solito Deuz 934 930 900 No scusate 9.340 Ecco TTV E la Bossini B200 Vista dal basso Magari potrei Inquadrarla un po' Di più Perché si vede Tanto il cielo E poi Basta Questo qui Quella Sempre Di AgriLori Vi ringrazio Tutti quanti Per le screen Ce ne sono Di tante Che sono Veramente belle E ora Andiamo a vedere Il vincitore Allora Qua non fate caso Che il programma Di registrazione Che è OBS Allora Le maie Come vedete Sono queste qua Sarebbero 31 Perché non ho più Messo una foto Che è la prima Quella là Che Non so se In teoria sarebbe Di Di Riccardo Ecco Però vabbè Ecco Un piccolo problemino È che Scaricandole da Facebook Le vedete così piccole A parte questa Il resto Sono tutte piccoline Vedete Quindi Volevo fare un'altra cosa Però non ho potuto Farla E ora Svegliamo il vincitore Il vincitore è Si potrebbe già capire È Samuele Pincelli Vedete Con il suo John Deere Adesso Se ne aggrandisco Ok Si vede male Però Non è per la foto È per Quando le scaricate Da Facebook Veramente Una screen Che mi è piaciuta Dall'inizio Anche agli altri Admin Della pagina Avevamo fatto Votazioni Era quella più votata In pittoria Abbiamo votato così E È veramente ottima E adesso Al massimo Scrivimi tu O in fondo al video O sulla pagina Che ci mettiamo d'accordo E Ti lascerò pubblicare Ecco ogni giorno Una screen Sulla mia pagina Al massimo Le invio Io le pubblico Proprio sulla pagina E Uno al giorno Più o meno Un mese Adesso Vedi tu Se ti trovi comodo Potresti partire già da Prossima settimana Da lunedì Per quattro settimane Facciamo Oppure da Oppure Parti da gennaio Fai tutto gennaio Adesso bisogna vedere Ci mettiamo d'accordo Al massimo La grafica Ecco Grafica Oddio Non è che sia Bravissimo Collega Grafiche Vi faccio vedere Ne ho appena fatto una prima Per il mio profilo Eccola qua Più o meno Una cosa simile O All'incirca Ecco Cercherò di farti E Dimmi tu cosa vuoi Ad esempio Che la scritta Cosa vuoi E Fammi sapere Ecco Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ecco Tra l'altro A mila iscritti Sto pensando di fare Un altro contest Con Magari Dei premi migliori Quindi Ci vediamo Domani Sì Domani dovrei esserci Con un nuovo video